Sì, è questo qui, e poi il tempo della nostra vita sia forte che sia chi mai potrà cambiare il nostro cuore, poi, mancano un minuto e qui, manca il poco, grazie Dolino, grazie a questo meraviglioso, grazie, ciao, ci avete fatto veramente voi, ci avete fatto divertire, per il prossimo anno, il primo delle vostre mani, non siamo così Grazie a tutti Grazie a tutti e a tutti voi, vi auguriamo la buonanotte, alla prossima, e se vi siete davvero divertiti ora, fatecelo sentire, grazie! Grazie Dolino, grazie a tutti di vita e di più, ci vanno e ciao!